Questa è un'installazione che mostra chiaramente come è presente l'incertezza nella nostra vita. Un braccio robot pesa su una bilancia di precisione questo cilindro da un chilo. E guarda qui, nonostante sia super preciso alla misura, purtroppo ci sono delle condizioni che determinano degli spostamenti. Perché ci sono queste differenze nelle misurazioni? Perché purtroppo cambiano le condizioni ambientali, cambiano le condizioni dello strumento, anche se noi non lo percepiamo. Nella vita c'è l'immanifesto, l'imprevedibile, l'incerto, anche se noi non lo percepiamo. Però al crescere delle misurazioni, guarda, va a distribuirsi su questa gaussiana quella che è un'incertezza media. Più misuri, più si riduce l'incertezza. La verità, come la ottieni? Semplice, devi misurare infinite volte. Ci riesci?